Ciao, allora questo disco è la consagrazione di questo vostro grande successo insomma e complimenti e volevamo sapere cosa è cambiato negli ultimi anni, quanto siete cambiati? Vado io? Sì, vai. Allora, nell'arco di questi quattro anni, diciamo, che sono stati quelli che ci hanno permesso l'evoluzione, no? Diciamo dal 2012 fino ad oggi e sono cambiate tante cose, siamo un progetto partito a singoli su YouTube sono cresciute le visualizzazioni, quindi il riscontro sul web a partire dal quarto singolo che era Sbatti nell'estate 2012 o 2013? 2013. Ok, e abbiamo suonato appunto ormai in tutta Italia, in discoteche tutta Italia e adesso dopo quattro anni abbiamo finalmente concluso il nostro primo album Quindi riassumendo questa qui un po' Sì, poi siamo cresciuti noi in generale, sono cresciuti i nostri fan E sono cambiati anche gli argomenti perché comunque nell'album abbiamo un po' variato e abbiamo iniziato a parlare di anche robe nuove Sì, infatti siamo qui appunto per parlare di questo nuovo album, Entro in Pass, che è appunto uscito il 16 settembre e subito mi ha colpito una cosa particolare, ovvero la prima traccia di questo album perché è appunto Entro in Pass, che in realtà era un brano già conosciuto ma rivisitato e soprattutto con un featuring che è Jake La Furia Come mai questa scelta proprio di Jake e questa collaborazione, insomma, com'è nata? Allora, Entro in Pass è stato il nostro primo singolo da quando abbiamo iniziato a far uscire i nostri video su YouTube e dato che ci tenevamo talmente tanto a questa canzone che per noi è stata importantissima abbiamo deciso proprio di dare il nome di questa traccia al nostro primo disco per chiudere un po' questo viaggio, questo ciclo dei nostri singoli e Jake era la persona, tra l'altro oltre ad essere un nostro carissimo amico era la persona che poteva rappresentare al meglio la canzone Entro in Pass che secondo me è la canzone che ci rappresenta di più, la canzone più pagante di tutto l'album Notavo anche, non so, correggetemi se sbaglio, ci sono, mi sa, Faccio After è anche stata rivisitata nell'album c'è qualche sonorità? In realtà più che rivisitata è stata masterizzata No, Faccio After è in realtà la stessa, sono da che c'erano due versioni e nel master è entrata quella lì Di questi ultimi quattro anni tutti i pezzi che avete fatto, ma anche degli inediti dell'album c'è un pezzo di cui siete più soddisfatti, uno meno soddisfatti? Lo so Secondo me va un po' ognuno ha la propria idea, ovviamente Pettinero credo che abbia lasciato un segno un po' a tutti noi in generale Beh, io Vamonos, infatti ce l'ho anche tatuato perché è un pezzo che ci ha fatto fare un salto diverso nel senso che con Vamonos abbiamo partecipato al Coca-Cola Summer Festival, abbiamo vinto il nostro primo disco d'oro qui è stato un traguardo diverso dagli altri Sì, no, per me ogni canzone ha la sua importanza, quindi non ce n'è una più delle altre diciamo che Pettinero è la canzone più emblematica per questo album, per questo primo ciclo, secondo me, per come sono andate le cose Sì, questi sono i vostri primi in store perché voi siete sempre esibiti live in discoteca Come vi sembra questa nuova esperienza e come è il contatto forse più diretto rispetto al live con i fan? Beh, sicuramente è divertente e piacevole incontrare persone che magari non riescono a venire di solito ai nostri concerti, ai nostri live e poi presto sta andando bene, ci divertiamo, conosciamo e incontriamo un sacco di persone Va bene Eh, allora, oltre agli in store sono previsti quindi anche dei concerti, prossimamente ci potete dare qualche anticipazione, qualcosa? Ma al momento il nostro calendario è in fase di sviluppo Per il momento possiamo dire che saremo, nel primo ottobre, saremo sicuramente in Veneto e in Toscana Le altre regioni ancora work in progress Ok Invece un'altra curiosità, ho visto il video di Wi-Fi, il primo video diciamo social con tutti i contributi dei fan Come mai questa idea? Allora, Wi-Fi abbiamo voluto, diciamo, fare questo regalo alle persone che ci seguivano per poter partecipare ai nostri video dato che ogni volta che facciamo un video ci scrivono tantissime persone che vogliono partecipare abbiamo detto Wi-Fi che era ancora una canzone estiva e l'estate era quasi finita però noi ci tenevamo tantissimo perché secondo me è una canzone stupenda dell'album molto più, che può piacere a più persone parla comunque di una tematica che raggruppa più persone allora abbiamo detto perché non far uscire un video mettendo dentro tutti i video dei nostri fan che mentre cantono la canzone, mentre sono in vacanza, mentre si divertono e quindi abbiamo voluto fare questo regalo facendo uscire il video su Facebook E invece appunto di tutti questi eventi a cui avete partecipato ce lo raccontate un aneddoto particolare con dei fan non lo so, una mattata, una cosa divertente che è successa penso che ne avete diversi, insomma chi si propone? Penso che nei club ne avete di più allora, io ho poche memoria per queste cose comunque per quanto riguarda gli in-store mi sembra che la cosa più strana che sia successa sia un nostro fan che ha allonato del Garda è venuto vestito come uno dei nostri personaggi dei video esatto, come nel Borat di che c'è in pettinero, in sbatti è venuto praticamente nudo nel centro commerciale in questo costumino che copriva soltanto le parti basse e con una foglia gigante di marijuana indietro con scritto Damm questa è stata la cosa Si è anche impegnato a fare questo costume perché gli ho chiesto quante ore ci avessi messo a farlo e mi ha detto quattro ore quindi gli ho detto cavolo Era sicuramente una cosa impegnativa Vabbè, grazie mille allora per questa intervista invitiamo tutti i nostri radioascoltatori ad ascoltare ad acquistare Entro in Pass che questa settimana è stata sempre prima in classifica su iTunes e se ci fate un saluto quindi agli ascoltatori di Radio Lewis Ciao ragazzi, un bacione da noi del pagante prendete, anzi ascoltate Entro in Pass Mi raccomando un bacione a tutti Ciao, ciao a tutti